Armando Siri, sottosegretario tra i sporti della Lega, è indagato per corruzione dalla procura di Roma nell'ambito di un'inchiesta nata a Palermo. Siri, tramite Paolo Arata, ex deputato di Forza Italia, responsabile del programma della Lega sull'ambiente, secondo l'accusa avrebbe ricevuto denaro per modificare una norma da inserire nel DEF 2018 che avrebbe favorito l'erogazione di contributi per le imprese che operano nelle energie rinnovabili. Norma mai approvata però. Nell'inchiesta romana è coinvolto anche Arata, che risponde di concorso in corruzione. Il professore è indagato anche a Palermo nel filone principale dell'inchiesta per corruzione e intestazione fittizia di beni. Secondo i PM siciliani sarebbe stato in affari con l'imprenditore dell'eolico Vito Nicastri, tra i finanziatori della latitanza del boss Matteo Messina Denaro. Per i magistrati però Siri non sarebbe stato a conoscenza dei legami tra l'imprenditore mafioso e l'ex parlamentare. Il procuratore aggiunto di Palermo Paolo Guido e il sostituto Gianluca De Leo hanno chiesto e ottenuto l'aggravamento dalla misura cautelare per Vito Nicastri. Gli sono stati revocati i domiciliari e torna in carcere. Ai domiciliari Nicastri, soprannominato il Re del Vento, c'era finito l'anno scorso con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa e intestazione fittizia aggravata dell'articolo 7. Avrebbe messo le sue aziende, leader nel settore delle energie alternative, a disposizione per gli affari sporchi dei boss di Salemi e Vita. Anicastri è già stato confiscato un patrimonio stimato di un miliardo di euro con una quarantina di società. La sua scalata economica ha avuto, secondo la DIA, un socio d'eccezione, Matteo Messina Denaro.